Prepariamo insieme la zucca alla mediterranea, un contorno semplice, pronto in pochi minuti, ma davvero super gustoso e colorato, perfetto per accompagnare secondi di ogni tipo. Dai, iniziamo! Partiamo proprio dalla zucca, che dobbiamo dividere in parti più piccole e che priveremo quindi di semi e filamenti interni e della buccia esterna, in questo modo. Ridurremo quindi in fette, più o meno di questo spessore. Foderiamo una teglia con della cacchino forno e ungiamo con olio extravergine d'oliva. Disponiamo quindi le fette di zucca, in questo modo. Disposte le fette di zucca, aggiungiamo delle cipolle, nel mio caso cipolle di tropea, ridotte in fettine e le distribuiamo su tutta la teglia. Aggiungiamo quindi dei pomodorini ridotti a metà e delle olive nere, che disporremo in maniera omogenea su tutta la teglia. Dedichiamoci quindi al pan grattato, a cui aggiungiamo il parmigiano reggiano grattugiato e che terremo momentaneamente da parte. Ungiamo quindi con dell'olio extravergine d'oliva, aggiustiamo con del sale, del pepe nero macinato. Ecco, spargiamo tutto con il mix di pan grattato e formaggio che abbiamo appena preparato. In questo modo. Terminiamo quindi con del rosmarino, che donerà non soltanto un profumo, ma anche un gusto ancora più intensa al nostro piatto e facciamo cuocere in forno per riscaldato ventilato a 180 gradi per 30 minuti. Ed eccola qui, la nostra zucca alla Mediterranea appena sfornata. Pronta in pochi minuti, ma davvero super super buona ed anche colorata e bella da portare a tavola. Davvero da provare! Per preparare la zucca alla Mediterranea serviranno 400 g di zucca, quanto basta di pomodorini, 2 cipolle di tropea, quanto basta di olive nere, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e rosmarino, 30 g di pan grattato, 20 g di parmigiano reggiano grattugiato. Grazie a tutti!